Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio parlare di Amuri cose di Sicilia scopri le bottiglie di amari siciliani prodotti direttamente a Campobello di Mazzara in provincia di Tavani e sono perfette come idea e regalo da consumare dopo cena come digestivo adesso vi mostro comunque la varietà infinita di amari che potete trovare troviamo per eccellenza Amuri che è un gusto gradevole di agrumi ed erbe con venta e liquirizia poi Barocco che è fraganza di agrumi siciliani con aroma di cioccolato terramara con infuso di limone all'oro poi abbiamo Enna che è dato da mandorle e da grumi ed infine troviamo anche le due classiche bottiglie che sono il limoncello e l'arancello tutte queste bottiglie le potete trovare nel box degustazioni che si trova all'interno del sito ufficiale amuricosedisicilia.it o comunque potete contattare direttamente il produttore tramite telefono sono davvero degli amari particolari da comunque un classico di originalità con questi colori con questo design che comunque si chiama la Sicilia quindi che cosa state aspettando? visto che ci sono queste veste potete approfittare dell'acquisto di una bottiglia d'amaro per poterla comunque regalare o comunque godervi una serata tranquilla e gustarvi il vostro amaro preferito come digestivo Grazie a tutti! Grazie a tutti!